Ma pensa a te, guarda te che roba, 18 marzo eh, mezzogiorno, mezzogiorno, incredibile osta e attacca anche se si attaccava la mettevo su sul tettuccio della macchina comincia attaccare, guarda, guarda che roba cazzo, ora come viene, no no ma fra un po' attacca ma pensati che roba, beh abbiamo ripreso una nevicata al 18 marzo speriamo sia di un buon auspicio per i temporali quest'estate. Grazie 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 Grazie